Esiste un altro posto molto speciale, sulle cime dell'Himalaya. Lo chiamano Tiger's Nest. Lo conosco quel posto. Caricatela sul furgone. Andiamo, vieni con me. Hai avuto paura per me? Anch'io ho avuto paura. Dove la stai portando? A nord, sulle montagne. Al Tiger's Nest. Preparati a vivere una grande avventura. Il bracconiere farà di tutto per riprendersi il cucciolo. Con la forza e il coraggio dell'amicizia. Segui le gru dal collo nero. Ce l'abbiamo fatta. Brava Tigrotta. Ti sei presa cura di me. Ti chiamerò Mukti. Ora è questa la tua casa. Vai! Vai! Il ragazzo e la tigre. Dal 14 ottobre solo al cinema. Il ragazzo e la tigre.